L'Amen Scuola Baschettarezzo ottiene il pocherissimo di vittorie battendo al Palasport Estra il consorzio Leonardo Servizi Quarrata per 58-53, salendo al secondo posto solitario dietro la capolista San Vincenzo. Come nelle previsioni della vigilia è stata una partita molto combattuta contro un avversario che ha dimostrato di non valere l'ultimo posto in classifica attualmente occupato. Il merito degli Amaranto è stato quello di rimanere sempre in vantaggio anche senza riuscire a dare il break decisivo. L'Amen è stata sempre con la testa avanti. Gli ospiti sono bravi a dare un ritmo basso alla gara imbrigliando il contropiede Amaranto e Cutini sempre raddoppiato dalla squadra di coach Rastelli. La gara è proseguita sullo stesso copione fino all'ultimo quarto quando l'Amen sospinta da un ottimo Gionmetti autore di 16 punti con 13 rimbalzi catturati e ben 11 fali subiti ha cambiato marcia in difesa recuperando palloni pesanti che hanno dato un mini break di 5 punti 50-45 a 5 minuti dalla fine. Sidoti è l'ultimo a mollare per gli ospiti con tre triple che tengono in vita acquarrata. L'inerzia però a favore della difesa della Sbac recupera gli ultimi palloni e mette in cassaforte un successo sudato ma comunque meritato per 58-53. Archiviata questa vittoria che vale quota 24 punti in classifica per l'Amen si apre la settimana di preparazione all'ostica trasferta di sabato prossimo sul campo del Livorno squadra in forma che ha espugnato il parquet di Montevarchi. Un incontro terminato bene per noi e che deve far vedere al nostro pubblico aretino che c'è, c'è stato oggi in maniera numerosa, sempre più numerosa, applaudire i nostri ragazzi. Secondo me è stata una partita che era difficile da giocare bene in sostanza, tecnicamente, perché insomma una squadra impostica comunque hanno dimostrato che non valgono la posizione di dove si trovano. Quindi voglio fare i complimenti comunque al nuovo acquisto di Quarrata che si doti insomma perché in effetti si è visto che anche se è fuori forma probabilmente ma comunque le mani ce l'ha molto buone. Detto questo comunque faccio i complimenti ai miei ragazzi, al coach, a tutti perché bene o male queste partite l'anno scorso le avremmo perse. Quindi bene, bene così. Consentimi solo una cosa, oggi è una giornata un po' triste per me e per tante altre persone di Arezzo. Vorrei lanciare un abbraccio alla famiglia di Ugo Morelli che ci ha lasciato proprio ieri. Quindi non festeggio moltissimo questa vittoria per questo motivo.